Oggi andiamo a vedere una lezione tenutasi l'11 marzo del 1968 che si intitola Concezione. L'argomento di questa sera è la concezione sia su questo livello che sul livello più alto. La Bibbia è una visione dall'inizio alla fine. Si usano parole come Gesù, Mosè, Abramo e Isacco, ma le loro storie sono visioni. Gesù è il compimento delle scritture. Quindi quando parlo di Gesù sto parlando di te, elevato al livello in cui puoi fare la stessa audace dichiarazione. La dichiarazione di Gesù di essere il compimento delle scritture richiedeva una maturità spirituale che la maggior parte di coloro che ascoltavano la sua affermazione non erano in grado di comprendere, ma lo scopo della vita è di compiere le scritture. Stasera parlerò della concezione che porta al compimento delle scritture così come dell'ombra che proietta in questo mondo perché la stessa tecnica può essere usata per realizzare i vostri obiettivi qui. Esiste un solo spirito, lo spirito dell'uomo e lo spirito di Dio sono la stessa cosa. La più grande concezione di Dio è registrata nell'Antico Testamento come prefigurazione dell'evento descritto nel primo capitolo del libro di Luca, che racconta la storia di un angelo del Signore che parla a Maria dicendo, non temere perché hai trovato il favore di Dio, tu concepirai e darai alla luce un figlio e lo chiamerai Gesù. Chiedendosi come questo sia possibile, visto che lei non aveva marito, l'angelo spiegò la teoria del concepimento sopranaturale dicendo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà perché il bambino che nascerà da te sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Ora la frase scenderà su di te e la parola ombra sono la stessa cosa, per definizione e significato sovrapposizione, essere sovrapposto a te lasciando la tua impronta, il tuo sigilio. Nel trentatresimo capitolo del libro dell'Esodo, il Signore parla a Mosè dicendo, ti metterò in una fenditura della roccia e ti coprirò con la mia mano. Quando sarò passato, toglierò la mia mano e tu vedrai la mia schiena. Non potrai vedere la mia gloria, ma vedrai la mia schiena. Ti metterò in una fenditura della roccia. In ebraico la parola fenditura significa forare, penetrare, perforare una cava e la fase ti coprirò con le mie mani. Significa accoppiamento. Ecco l'atto creativo affermato nel Nuovo Testamento come la potenza dell'Altissimo. Ti adombrerà, poiché questo atto è sovrapposizione di se stessi a un essere. Per illustrare il mio punto, permettetemi di condividere un'esperienza di un'amica che è qui stasera. Il 5 marzo, pochi giorni fa, mi ha detto, mi sono ritrovata sveglia in un sogno, seduta su un tavolo in una stanza enorme, sterile e brillantemente illuminata. Sapevo che si trattava di un obitorio perché potevo vedere molte ragazze alla mia destra, ognuna distesa su una lastra che sembravano essere morte. Una porta si aprì. E tu, Neville, vestito da medico e la tua infermiera, una signora dai capelli molto neri, entraste. Quando i nostri sguardi si sono incontrati ho capito che avevi avuto un'unione con tutti i presenti, anche se sembravano morti. E sapevo anche che io ero la prossima. Poi una giovane ragazza vivace entrò nella stanza e si mise su una lastra accanto alla mia. Interrogandolo su dove si trovasse tua moglie, mi fu detto che stava dormendo nella stanza accanto. Sentendo questo, l'infermiera sorrise e la riconobi come tua moglie, ma con una parrucca, imbarazzata per la consapevolezza di ciò che stava per accadere, mi rivolsi alla ragazza che disse se non lo vuoi, lo prendo io. E con questo imbarazzo si trasformò in rabbia e dissi oh no, è il mio turno. Poi è venuta l'unione e mi sono detta è come uno stallone, come fa? E la visione giunse alla fine. Questa visione ha un enorme significato perché Dio parla all'uomo in sogno e si rivela in visione. Questa era una visione perché era sveglia nel sonno. È difficile per l'uomo capire che il potere creativo di Dio è personalizzato, che chiunque è resusciti dai morti e si è incorporato nel corpo dell'amore è Gesù Cristo che crea. Nella sua visione tutti sembravano morti eppure l'unione era stata consumata. Tutto è possibile a Dio. Seppellendo il suo potere creativo in loro trasforma la morte in sogno e il sogno in veglia e la veglia in resurrezione. Ora coloro che dormivano sulle lastre di marmo erano come Mosè sulla roccia. Il termine spaccare usato in questa affermazione significa forare, perforare, penetrare una cava. Dio manda la sua potenza creativa in questo mondo di morte per penetrare i morti. Essi concepiranno e partoriranno suo figlio e lo chiameranno Cristo. Le parole Gesù, Giosu e Geova hanno tutte la stessa radice che significano salvezza. E se il bambino che nascerà da voi sarà chiamato santo è il figlio di Dio, allora Dio deve averlo generato. Non può essere figlio di Dio se non è stato generato da Dio. La gente pensa che l'uomo non sia Dio, ma io vi dico che l'uomo è tutta l'immaginazione e l'immaginazione è Dio. E quando la vostra immaginazione viene sollevata da questo mondo in cui è sepolta, il vostro potere creativo viene usato per impregnare i morti e farli uscire come Dio. Sembra fole, ma vi dico quello che so per esperienza. E proprio come Dio impregna i morti a un livello superiore. Voi potete impregnare uno stato morto a questo livello. Pensate a uno stato e voi siete il suo spettatore. E lo stato rimarrà morto rispetto a voi finché non lo penetrerete, finché non vi avvicinerete esso sul vostro caro infocato del potere immaginativo. Un uovo che sia umano o di gallina è morto e lo rimarrà per sempre finché lo spermatozoo lo penetra. Lo spermatozoo deve penetrare e occupare l'uovo per poterlo fecondare e poi a suo tempo il guscio si rompe ed esce quello che è stato lo spermatozoo che lo ha penetrato. Uno stato viene penetrato attraverso l'atto di assunzione. Supponendo di essere ora nello stato che si vuole entrare, si pensa da esso e non più a esso. Pensando da avete penetrato lo stato. Questa penetrazione è ancora il mistero di tutti i misteri. L'uomo ha scoperto come andare sulla luna, piazzare telecamere nello spazio. Ma per quanto sappia dei misteri dell'universo, l'uomo non riesce a capire come un uovo possa essere penetrato senza un buco, né prima né dopo la penetrazione. Bene, la vostra immaginazione è quello sperma. Non c'è bisogno di aprire le porte per entrare in una qualsiasi stanza. Si entra semplicemente supponendo di esserci dentro. Guardate il mondo da esso e sentite ciò che volete sentire e la stanza è stata penetrata. Ora rimani lì finché non senti il sollievo. Di tutti i piaceri del mondo il sollievo è il più sentito. Così quando entri penetri in un desiderio. Rimani lì finché non senti la soddisfazione, finché non hai esploso lo sperma nello stato. Il Signore disse a Mosè che lo avrebbe coperto con la sua mano, che è il suo potere creativo. Coprire è copulare. Avendo coperto con il suo potere creativo ti viene detto che lo rimuove. In altre parole non devi rimanere in quello stato. Dovete entrare e fecondarlo. Puoi rimuovere la mano riportando la vostra consapevolezza creativa allo stato precedente. Ora vi dico che si vede solo la schiena di Dio, ma non il suo volto. La signora che ha scritto la lettera ha visto il volto di Dio perché era sveglia. Tutti gli altri erano apparentemente morti, totalmente inconsapevoli di ciò che era successo loro. Così quando il bambino nascerà arriverà all'improvviso poiché non avevano alcuna conoscenza del concepimento, ma hanno concepito perché Dio non fallisce mai nella sua penetrazione e tutti daranno alla luce il bambino chiamato figlio di Dio come simbolo della loro nascita individuale. La signora che ha scritto la lettera era sveglia quando è avvenuto all'unione, quindi sa quando è avvenuto. L'ha esorto a registrare questa esperienza nella sua Bibbia accanto al 35esimo versetto del primo capitolo di Luca. Lo segni, in questo giorno ho concepito lo Spirito Santo. Se dovesse morire ora, questo non fermerà il concepimento, piuttosto si ritroverebbe rivestita di un corpo uguale a quello attuale, giovane, nuovo, meraviglioso, senza nulla di mancante perché non ha concepito fisicamente, ma nella sua anima. L'anima è l'emanazione di Dio, la sua sposa, finché il sonno della morte è passato. È lì che avviene il concepimento e per mia esperienza personale dico la nascita avverrà in trent'anni. Ci viene detto che Gesù iniziò il suo ministero quando aveva circa trent'anni. Tutti stanno adempiendo le scritture perché tutti sono Gesù Cristo, quello che viene solo per adempiere ciò che ha predetto, che avrebbe fatto, prendendo su di sé il limite dell'uomo, il limite della contrazione e dell'opacità. Dio compie la scrittura. Non importa cosa fa l'individuo per vivere, se è moratore, un falegname, un avvocato, un banchiere, un miliardario, un povero, la domanda è sta adempiendo la scrittura perché solo adempiendo la scrittura può lasciare questo mondo di morte ed entrare nel regno dei cieli. Dio ha predetto ciò che avrebbe fatto e poi lo è diventato. La scrittura è la registrazione della visione dall'inizio alla fine. Non è una storia secolare. I personaggi che vi sono registrati non hanno vissuto come me e voi. Sono le personificazioni degli stati in cui voi e io, l'essere immortale chiamato Dio, passiamo mentre adempiamo la scrittura. La storia raccontata nel capitolo 33 dell'Esodo è una prefigurazione di ciò che si adempia nel primo capitolo del libro di Luca, quando l'angelo spiega la teoria della concezione spirituale o sovranaturale. Nell'Antico Testamento si dice, ti coprirò con la mia mano. Se prendete un buon dizionario ebraico scoprirete che questo significa copulazione. So che nel mio caso, quando sono stato alla presenza del Signore risorto, quando ci siamo abbracciati, ci siamo fusi insieme, nella visione di questa signora tutti, tranne il medico, erano donne. Quindi la fusione è avvenuta in un modo che è normale per la Madonna, ma l'unione non è fisica. Essendo la potenza di Dio, l'immagine di Dio, che è il seme dentro di Lui, è sepolto nell'anima. Tutti sembravano morti e, con questo atto, Dio risveglia i morti. Siamo esortati a risorgi, svegliati o dormiente e risorgi dai morti. In questa affermazione il morto e il dormiente sono equiparati. Nella sua visione le Signore erano così addormentate che sembravano morte, ma lei sapeva che l'unione aveva avuto luogo con tutte loro. Questa è la parte che il Cristo risorto è invitato a svolgere. Non avviene a questo livello perché le sue energie sono rivolte alla rigenerazione. La parte che svolge ha luogo in una zona remota dell'anima. Ora, il 20 ottobre il mio amico Bene ha sperimentato la nascita del bambino. Eri Sarabene ha chiamato per dirmi che ha visto Davide il 6 marzo, proprio il giorno in cui avevo predetto che sarebbe successo. Egli ha promesso di scrivermi il sogno in dettaglio, ma questo è ciò che mi ha detto al telefono. Nel mio sogno ero invitato a una festa a cui partecipavano molti bambini e i loro genitori. Improvvisamente i genitori scomparvero lasciandomi solo con i bambini. Guardandomi intorno notai un ragazzo di circa 14 anni che camminava verso di me. Immediatamente lo riconobi come Davide e mentre lo guardavo negli occhi sapevo che mi riconosceva come suo padre. Parlando direttamente a me disse «So che il nostro padre non ci lascerà mai, poi il sogno è finito». Ecco il compimento delle scritture. Vedete, Dio non limita, non si ripete. In ogni caso si compie la stessa storia, ma è unica per l'individuo e mai duplicata. La scrittura dice «Vado dal padre mio e dal padre vostro, dal padre mio e dal Dio vostro». Ecco il plurale. Il padre nostro non ci lascerà mai. Ora profetizzo per repeni. L'8 luglio sarà diviso da cima al fondo e salirà in cielo in forma serpentina». Vi dico, noi siamo qui solo per adempiere le scritture. Non mi interessa cosa fate in questo mondo. Se stasera siedi alla Casa Bianca come presidente del nostro grande paese, eserciterai un potere enorme, ma non sarà niente in confronto a quello che sperimenterai quando avrai adempiuto la scrittura. E in questo adempimento non potrai fallire. Cosa può importare ciò che realizzi nel mondo esterno quando lasci tutto per passare attraverso la piccola porta chiamata morte? E nessuno conosce le fornaci che si devono ancora sperimentare prima della nascita del bambino. Ma posso dire al mio amico che ha scritto la lettera «Tu puoi lasciare questo mondo in meno di trent'anni, ma non vacillerai. Beni non ha che una trentina d'anni, quindi non ha memoria del concepimento, ma nessuno può scegliere il tempo, perché tutti sono scelti. Non siete stati voi a scegliere me, sono stato io a scegliere voi». Perché nessuno viene a me se il padre mio non lo chiama. E io e il padre mio siamo una cosa sola. Nessuno può dire il segreto dell'amore elettivo di Dio. Ma quando sei pieno di forza, sei chiamato. Non ti offri volontario, ma sei arruolato, attirato nello stato per raggiungere il tuo apice in trent'anni. Raccontare questo a un vasto pubblico sarebbe il massimo della follia, perché non capirebbe di cosa sto parlando. Ma io vi dico, i vostri sogni, le vostre visioni, le vostre esperienze sono simboli che voi accettate e interpretate o rifiutate come un'illusione, perché non c'è altro che Dio, che è la vostra stessa meravigliosa immaginazione umana. C'è solo uno spirito in questo meraviglioso universo. L'essere che mantiene il tutto è lo stesso essere che mantiene voi. Non c'è altro. L'uomo è tutta l'immaginazione, Dio è l'uomo ed esiste in noi e noi in lui. Il corpo eterno dell'uomo è l'immaginazione e questo è Dio stesso, William Blake. E tutto è possibile a Dio, proprio come un uovo viene penetrato, concepisce e viene resuscitato dalla morte in uno stato vivente, portando fuori l'immaginazione espressa della sua persona. Se tu porti fuori il figlio di Dio, devi essere stato generato da Dio. La mia amica era sveglia nel sogno, quindi era consapevole della sua meravigliosa concezione. Se lasci questo tratto di tempo prima dei trent'anni, non farà differenza perché a differenza dei bambini qui, dove un aborto è possibile, lei non può perdere il bambino. Ho letto libri sul simbolismo sessuale nella bimbia, dove questi grandi studiosi considerano questo passaggio di Luca come pornografia. Se lo leggete a questo livello vedrete Dio come un creatore che crea. Ogni bambino nato da una donna è Dio che crea, perché Lui è il creatore di tutto. Ma quando vi chiama dall'alto, le vostre energie sono invertite e scaturiscono dall'alto, mentre le energie di questo mondo scaturiscono dal basso. Quindi passate dalla generazione alla rigenerazione. Ora permettetemi di tornare a questo livello e di mostrarvi come procedere per realizzare i vostri obiettivi. Ciò che volete, che sia la salute, la ricchezza o la fama, è solo uno stato. Pensate allo stato come a un uovo che contiene tutto il necessario per esteriorizzarsi, ma morto e deve essere penetrato e fecondato per rompere il guscio e diventare ciò che il mondo chiama realtà. Lasciatemi spiegare. Mentre sono qui davanti a voi, desidero e voglio supporre di essere a San Francisco, a circa 50 miglia da qui. Credo di conoscere bene questa città, ma non è necessario che io conosca una città per assumere uno stato. Mettendomi in una familiare hall dell'albergo a San Francisco. Mi sedo lì e penso al mondo relativo alla hall in cui sono ora seduto. Mentre sono lì seduto, la sua realtà, sento la soddisfazione di essere lì, proprio il posto in cui volevo essere. Nel momento in cui sento il sollievo di esserci, ho rilasciato lo sperma necessario, ho l'energia in quello stato morto. Poi ritorno a Los Angeles, ma in quel breve periodo di tempo sono andato a preparare l'esperienza. Ora mi muoverò attraverso un ponte di eventi che mi costringeranno ad andare a San Francisco. Posso non avere alcun desiderio di andare, ma lo farò perché ho preparato il posto, l'ho occupato e anche se sono tornato dove ero e dopo posso resistere all'andare, non posso farlo perché l'ho creato e realizzerò ciò che ho fatto. Ora puoi fare questo con tutto, un obiettivo, un desiderio e un nuovo che puoi penetrare, occupare. Puoi entrerci dentro e vedere il mondo da esso. Non pensarci, guarda il mondo da esso, il che implica che ci sei dentro. Allora senti il sollievo, la soddisfazione di essere lì. Fate questo e nessun potere al mondo potrà impedervi di realizzare questo stato. Potresti pentervi di quello che avete fatto, ma lo realizzerete comunque. Imparate la lezione e cercate di non fare ciò che non volete sperimentare in futuro. Tutto sta aspettando che tu penetri come tutto è nella roccia spaccata. Il tuo desiderio è morto come una roccia, quindi lo penetri entrandovi dentro, occupandolo e guardando il mondo da esso. Poi sento il sollievo di esserci dentro e la soddisfazione del compimento. Voltatevi le spalle sapendo di averlo fatto e permetteteli di oggettivarvi nel vostro mondo. Questo è un atto creativo su questo livello. Così come il mio amico ha visto l'atto creativo su un altro livello spaventa solo pensare a questo. Perché i nostri moralisti hanno il più strano concetto di Dio. Queste due persone si amano profondamente e quell'amore è consumato. È qualcosa di diverso da Dio quando Dio è amore? Vorrei che tutti leggessero Blake e vedessero cosa pensa delle cosiddette virtù morali di coloro che distorcono la visione di Gerusalemme. Questo meraviglioso essere di libertà. Stasera sappi cosa vuoi e vai subito a occuparlo. Non chiedere il permesso a nessuno. Mettiti nello stato che desideri sperimentare ponendoti questa domanda. Come mi sentirei se vedessi il mondo da quello stato? Mio figlio si è messo nello stato di guerra leggendo un libro su Guadalcanale e innamorandosi delle foto dei nativi e del luogo. Certamente non si è goduto le sue esperienze mentre era lì ma se l'è cercata. Vedete? Nulla accade per caso. Tutto ciò che accade nel mondo lo fa perché tu e io lo mettiamo in moto. Che lo facciamo consapevolmente o meno. Di nuovo volevo condividere con tutti voi la mia emozione per la meravigliosa esperienza di beni di vedere Davide e la visione di questa signora di essere ingravidata. Le prometto che ci vorranno trent'anni. Ma cosa sono trent'anni nell'eternità? Cosa sono trent'anni quando si fa nascere il Cristo bambino? Che tutti lo abbiano. Dio non ha un solo stallone. Ha una meravigliosa stalla piena di coloro che sono il Cristo risorto. Coloro la cui potenza è stata resuscitata dai morti e girata di generazione in generazione. Egli seleziona coloro che devono essere salvati e li manda sotto comando a recitare la parte della potenza creativa di Dio. Credetemi, Dio è un uomo. Tu sei un uomo, Dio non c'è più. La tua stessa umanità impara ad adorare. Verso le 4 di questa mattina ho visto in visione un edificio di sei piani, completamente bianco e mentre lo guardavo diventava un uomo. Ha assunto il volto umano. Tutte le montane, i fiumi, le vale, tutto è uomo. E quando sei sveglio comunichi con loro come amici, cammini in tutte le zone del mondo per scoprire che tutto è Dio e Dio è uomo. Ora entriamo nel silenzio. Io mi fermo qui e vi aspetto domani. Ciao a tutti. Grazie mille. Ciao.